I meetup congiunti di Reggio Calabria 5 Stelle volevo sottolineare un fatto, ovviamente la risposta che abbiamo avuto dai commissari non è stata ancora una risposta, quindi noi in ogni caso, siccome siamo un movimento di cittadini a tutela del cittadino e dei suoi diritti, combatteremo fino in fondo con ogni mezzo legale che ci è concesso, andando avanti con la nostra petizione che già ha superato le 1500 firme e ponendo in essere tutte quelle iniziative che garantiranno la tutela del diritto del cittadino a non pagare un servizio che oggettivamente in modo scientifico non è stato reso. Per quanto i commissari si riservino di accertarlo, visto che hanno un contenzioso con la Leonia, in ogni caso questa per noi è una realtà auto evidente che non necessita di ulteriori verifiche, per cui il giorno del 6 febbraio, giovedì al Cedir saremo presenti per riaffermare questo concetto che al di là di qualsiasi spiegazione o gestificazione tecnica prioritario per noi è il diritto del cittadino.